Lunedì sembra che si possa finalmente ripartire anche per il vostro settore, come è la situazione? Siete pronti a ripartire? Avete delle novità o aspettate anche voi delle indicazioni della Regione? Siamo prontissimi, aspettiamo novità dalla Regione, speriamo che arrivi il Semafroverde venerdì quando il Presidente della Regione Cirio ha detto che si pronuncerà in merito. Come sono stati questi due mesi? Che difficoltà ci sono state per il vostro settore? Sono stati due mesi veramente difficili per tutti, a fine febbraio noi avevamo ricevuto il 90% della merce che si riferiva alla stagione primavera-estate e di lì poi c'è stato il blocco dei negozi, di conseguenza rimangono negozi con merci in venduta, con spese e con un sacco di problematiche per quanto riguarda poi il futuro. A proposito di futuro, come vi immaginate che sarà? Puoi entrare in un negozio e fare shopping con le nuove disposizioni? Cosa cambierà e cosa volete dire alla gente? Insomma che magari ha un po' di timore? Beh innanzitutto stiamo aspettando che ci siano nuove disposizioni perché noi facciamo riferimento ancora a disposizioni che si riferiscono al 10pm di aprile. Quindi voglio dire nel momento che ci saranno nuove disposizioni, in questo momento ci stiamo adeguando a quelle diciamo date in precedenza e quando ci saranno nuove disposizioni ci adegueremo molto velocemente. Non vediamo l'ora di iniziare, di ritornare ad avere il contatto in modo non plateare, diciamo plateare con il cliente. Un'ultima cosa, gli aiuti che sono arrivati, che sono stati anche annunciati da Conte, che arriveranno ancora anche al vostro settore, sono sufficienti? Bastano? Non bastano? Insomma come è la situazione secondo lei? Beh la situazione come dicevo prima è difficile, gli aiuti che sono stati annunciati spesso non sono arrivati, quindi noi chiediamo che le cose che vengono promesse abbiano comunque un decorso e un'accelerazione rispetto a quelle che sono le esigenze che ormai sono imprescindibili, cioè il commerciante medio in questi mesi qua ha solo sostenuto delle spese e non ha ricevuto praticamente nulla.